Largo ai giovani perché come diceva anche il coach qui mi è piaciuto l'atteggiamento dei miei soprattutto quando si era capito che la partita poteva andare in discesa e siamo stati bravi a non staccare mai con la mente sulla partita, ci eravamo dati un minimo di obiettivo difensivo che l'abbiamo raggiunto quindi anche il fatto di trasmettere ai più giovani come bisogna stare in campo in tutte le partite anche a prescindere dal risultato mi è piaciuto, i giovani l'hanno assorbito e poi per esempio come Auletta hanno messo dentro energia, hanno messo dentro cose che insomma fa sempre piacere vedere loro lo sanno che le occasioni per poter giocare non sono tanto obiettivamente per tanti motivi che non sto qui a spiegare però è importante che quando io li chiamo e in questo momento era già capitato per esempio Auletta aveva avuto dei minuti importanti anche a Porto Sant'Elpidio quando la partita era vera nel secondo quarto perché comunque siamo corti con le rotazioni e quindi automaticamente abbiamo bisogno anche di poco ma da parte di tutti è importante che loro comunque quando entrino non facciano danni perché non è che uno si aspetta che il ragazzo giovane di 17 anni entra e segna 10 punti e prende 8 rimbalzi però si aspetta che comunque tenga il suo uomo in maniera dignitosa uno contro uno, non perda palloni cioè faccia tutte quelle cose che non diano meno a livello valutativo e quindi sono contento perché comunque si ha risposto bene, ripeto ha risposto bene anche Ponziani oggi è chiaro che se uno guarda tutti e due i lati del campo in difesa poteva sicuramente fare di più come dicevi sono contento della tenuta mentale difensiva chi capisce di basket mi prende pure per matto perché stiamo parlando della squadra che poi si è andata a vedere i numeri è la prima in classifica del girone nostro a livello di difesa però secondo me noi è lì che dobbiamo fare il salto di qualità perché comunque anche oggi abbiamo preso in certi momenti dei canessi veramente disarmanti cioè io veramente faccio fatica ad accettare che una mia squadra subisca certi canessi in certi modi però di contro è veramente lì che dobbiamo fare il salto di qualità perché abbiamo troppe pause a quel livello lì dobbiamo cercare di limarle assolutamente perché sono convinto che per stare davanti non bisogna segnare 100 punti a partita bisogna cercare di limitare squadre di grande qualità come ce ne sono nel nostro girone e quindi l'atteggiamento difensivo deve cominciare ad essere costante al di là chiaramente dell'assenza grave di Nicolò che per noi diciamo che è quello che ci dà il là a livello di aggressività e di intensità però dobbiamo assolutamente far diventare una risorsa questa assenza non dobbiamo farla diventare un alibi perché oramai non sappiamo quando rientra stiamo cercando di lavorare per accelerare i tempi per cui adesso obiettivamente mi sembra che la squadra abbia superato lo shock dell'assenza perché comunque sta giocando con più scioltezza abbiamo subito a livello psicologico l'assenza un pochettino però adesso insomma abbiamo ritrovato di nuovo alcuni equilibri importanti sono tutti importanti gli scontri vi assicuro che io avevo visto giocare Cagliari nelle ultime partite chiaramente ripeto oggi penso che li abbiamo messi molto in difficoltà con l'intensità che abbiamo messo sul campo ma loro non sono quelli che avete visto oggi cioè loro erano una squadra che comunque le ultime partite le aveva giocate con Viterbo in casa comunque aveva fatto vedere cose molto interessanti anche a me piace vedere la mia squadra che fa canestro ma perché quello che si vede dà energia poi dall'altra parte del campo quindi diciamo che la coperta è molto corta se vai bene da una parte vai bene pure dall'altra se non vai bene su un lato del campo poi fai fatica di là è chiaro che però le percentuali possono dipendere anche dalla giornata noi purtroppo abbiamo avuto delle giornate dove non abbiamo fatto canestro e dove abbiamo faticato tremendamente qualche volta ci abbiamo anche lasciato la partita dobbiamo cercare di trarre l'infa prima dalla parte difensiva che poi dalla parte offensiva perché poi a livello qualitativo in attacco siamo una buona squadra non posso nasconderlo abbiamo tante opzioni, abbiamo tante soluzioni però noi dobbiamo cercare di fare uno sforzo di capire che per noi la linfa viene da dietro perché nel momento in cui la giornata non gira a livello offensivo possiamo comunque stare in partita grazie al tenere l'uno contro uno all'essere presenti al rimbalzo ci fate caso anche oggi per esempio alla fine non è che abbiamo dominato al rimbalzo contro una squadra che comunque giocava soltanto con Pugioni come numero 5 quindi anche lì dobbiamo cercare di fare qualche cosa di più